Doppio test ieri pomeriggio per le Aquile con Mr. D'Angelo che ha voluto dare minuti sulle gambe a tutti gli uomini a disposizione precedendo il test amichevole con la Fezzanese con un allenamento congiunto con la formazione primavera di Mr. Terzi disputato lungo due tempi da 35 minuti ciascuno. Terminato l'allenamento con la primavera, spazio all'amichevole con la Fezzanese pronta a prendere parte al campionato di Serie D con il tecnico Aquilotto D'Angelo a cambiare gli undici in campo rispetto all'allenamento precedente. Partita intensa nonostante il caldo e buon livello di agonismo sul terreno di gioco del Comunale di Follo in un match aperto dalla perla dal limite di Daniele Verda all'undiecesimo prima del momentaneo pareggio arrivato al diciassettesimo ad iniziativa di un Caparvio Gabelli. Ancora Verde al ventiquattresimo su assist di Diserio dalla destra e l'esto nel battere Pucci per la rete che manda le squadre al riposo sul 2-1 in favore delle Aquile nel primo dei due tempi da 35 minuti previsti per l'incontro. Nella ripresa al quarto è subito più esposito a mettere in rete il 3-1 facendo valere i propri centimetri su un corner proveniente dalla destra calciato da Verde mentre all'undicesimo è Diserio a duettare con l'attaccante di proprietà dell'Inter per poi depositare in rete di potenza la rete del 4-1. Al diciannovesimo pregevo le rete di Del Bello che al volo con il Mancino segna il secondo gol per Raffaezzanese ma al ventiduesimo è ancora Verde a mettere a segno la tripletta personale al termine di una bella azione corale fissando il risultato finale sul definitivo 5-2. Grazie a tutti